Orientamento scolastico, perché scegliere, optare per l'Istituto Archimede di Taranto? Lo domandiamo alla professoressa Patrizia Capobianco, dirigente scolastico dell'Istituto Archimede. Scegliere l'Istituto Archimede è sicuramente una scelta che guarda nel futuro, perché guarda tanti step, da quello della qualifica alla possibilità quindi di un diploma spendibile sia nel mondo del lavoro, ma anche delle professioni come quella docente e nel mondo del lavoro e perché non poi all'università. Quindi una scuola che ha consolidata con gli indirizzi che ormai abbiamo da tempo e sicuramente con i nuovi accordi avranno una spinta maggiore. E sto parlando di meccanica con il nuovo accordo Toyota perché a breve arriverà l'Ibrida qui a scuola. Ma guardiamo anche a tutti gli altri indirizzi consolidati come quello elettrico, come l'informatica e l'elettronica a Talsano nella sede staccata del Falanto. E poi il settore moda, l'Istituto Trasporti e Logistica che è l'ex nautico e in arrivo il simulatore, cioè un'esperienza consolidata e di lavoro utile. Ma voglio presentarvi il fiore all'occhiello che il nuovo indirizzo, gestione delle acque e risanamento ambientale, è l'unico indirizzo professionale in tutto il sud, cioè noi e in Calabria, sia a Taranto che in Calabria, sono gli unici indirizzi. L'altro indirizzo lo puoi trovare soltanto a Rieti. Quindi perché non pensare che in tutta la Puglia abbiamo un indirizzo specifico che darà molte prospettive di lavoro, di poter quindi entrare nel mondo del lavoro presto, molto presto. Ed ora scopriamo la strategicità dei settori e degli indirizzi dell'Istituto Archimede proprio attraverso la viva voce degli operatori del settore. Il professor Giuseppe Tortorella, docente di elettronica ed elettrotecnica. L'importanza, la strategicità di questi indirizzi ai fini occupazionali? Beh, innanzitutto diciamo che oggigiorno l'elettronica la sta facendo da padrone, ma non soltanto nelle apparecchiature semplici come una volta elettronica, ma sta entrando in tutte le altre tipologie. Pensiamo un attimo alla parte di elettronica e i controlli. Controlli numerici significa fare macchine che possono lavorare da solo tramite un disegno che viene effettuato. Possiamo dire anche piccole apparecchiature come l'Arduino che possono ancora una volta realizzare tramite un software, realizzare poi le apparecchiature in uscita. E poi l'elettronica sta anche andando nella parte meccanica. Sentiamo tante volte parlare di meccatronica e diciamo la verità, prima una volta se la macchina si fermava, dava una spinta e la macchina partiva. Adesso c'è tanta di quella elettronica che questa cosa diventa un po' più difficile. E quindi tutte queste possibilità ovviamente determinano un più facile accesso al mondo del lavoro. E certo, c'è un ventaglio più grosso nel mondo del lavoro. L'elettronica è quella, per quanto mi riguarda, non voglio fare lo sponsor di me stesso, ma è la parte che riguarda il futuro. Noi senza elettronica non riusciremo a realizzare proprio niente. Il professor Massimiliano Millico, docente tecnico pratico del laboratorio di elettrotecnica. Professore, quali sono gli sbocchi occupazionali immediati, per così dire, di questo indirizzo? Oltre agli sbocchi naturali ai quali si può accedere con questo indirizzo, quindi la manutenzione di impianti elettrici, elettromeccanici e la realizzazione degli stessi, grazie a questo diploma è possibile anche inserirsi nelle graduatorie della docenza di laboratorio di elettrotecnica. Io sono inserito pronto in queste graduatorie da anni, è possibile anche oltretutto inserirsi nelle graduatorie da assistente tecnico di laboratorio, quindi si può anche tornare a lavorare all'interno della scuola che ci ha dato il diploma. Nel mio caso, infatti, io insegno qui da anni con il diploma professionale tecnico nell'ambito del laboratorio di elettrotecnica. Siamo con l'ingegner Dario Ranieri, ingegnere industriale, e ci stiamo occupando delle prospettive occupazionali che certi indirizzi dell'Archimede consentono. Lo scorso anno la TechPrid e la Depo hanno realizzato una partnership, una collaborazione con l'Archimede, con alcuni studenti dell'Archimede che hanno già vissuto proprio una esperienza lavorativa viva, per non dire anche il fatto che un altro studente, già Archimede, è stato assunto in una di queste aziende, proprio a indicare la preparazione, il tipo di indirizzo che è estremamente propedeutico subito allo sbocco lavorativo. Esatto, questa iniziativa che è partita da gennaio 2019 ha visto coinvolto appunto la Depo e la TechPrint di Taranto con l'amministratore unico dottor Piero Guaranta che ringraziamo, che ha dato l'opportunità a degli studenti di entrare a far parte del mondo lavorativo dando un'occasione, un'opportunità per accrescere le competenze personali e professionali. Anche perché è stato proprio realizzato un vero e proprio contratto lavorativo finalizzato proprio al conseguimento del diploma di scuola media superiore. In particolare, in una prima fase, i ragazzi sono stati immersi nelle attività lavorative vera e propria affiancato a dei tutor, oltre a essere indicate tutte le regole di base del contratto collettivo nazionale in termini di comportamento e di sicurezza sul posto di lavoro. I ragazzi sono dimostrati fin da subito entusiasti e motivati mettendo in pratica tutte le indicazioni dei loro partner aziendali. A conclusione di questo processo formativo, i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza delle opportunità lavorative e delle tipologie di lavoro a loro più congeniali centrando in pieno l'obiettivo di questa esperienza. Il professor Giovanni Trovato, docente di ecologia ambientale, parliamo di questo nuovo indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale, proprio considerando le prospettive occupazionali dello stesso. Sì, diciamo che è comunque un indirizzo nuovo da tre anni che esiste, infatti noi abbiamo semplicemente il secondo anno, così come in altre parti d'Italia. C'è da dire subito che è l'unica scuola in Puglia che ha questo indirizzo. C'è una scuola per ogni regione. Che cosa si occupa? Si occupa di due aspetti della gestione delle acque, intese sia acque sotterranee sia acque superficiali, ma per noi soprattutto le acque anche marine. Quindi la gestione, l'analisi delle acque dal punto di vista chimico, fisico e microbiologico, la depurazione delle acque e la bonifica. Quindi i ragazzi potranno avere doppia preparazione, sia dal punto di vista chimico-biologico, sia dal punto di vista della gestione degli impianti di depurazione, di sollevamento, di ambientalizzazione. Professore, considerando proprio la specificità e la coscienza ecologica che per fortuna si sta diffondendo e cresciuta, gli sbocchi occupazionali sono notevoli, consistenti? Certamente, gli sbocchi sono notevoli e sono anche stati definiti dai cosiddetti codici atteggi di lavorazione. Quindi soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto nelle aziende private che hanno poi gli appalti delle pubbliche amministrazioni per fare la gestione ambientale, delle acque ambientali. Il professor Giampiero De Meo, consulente per le attività marittime, portuali, logistiche, un settore davvero fondamentale per una pronta emissione nel mondo dell'occupazione. Certo, nonostante il periodo di crisi, anzi proprio in considerazione del momento che stiamo vivendo, i trasporti non si fermano, il mare e le attività portuali non si fermano. Chiaramente bisogna guardare avanti e in questo senso io, così rappresento il mondo dei mestieri del porto, il mondo dei mestieri del mare e del nostro mare di Taranto, che hanno bisogno di nuove energie, di nuove figure professionali che certamente trovano in questo contesto una formazione adeguata. Diversi sono stati in 20 anni di collaborazione i progetti che sono stati fatti. i ragazzi sono andati a Brest, con la quale Taranto è gemellata, sono stati a Rotterdam, sono stati a Valencia, sono stati a Venezia, a Trieste. Quindi il mare e le professioni del mare, i mestieri del mare, sono alla base del futuro di questa città e del futuro della nostra Italia. Siamo a San Vito Taranto, presso i cantieri del Sud Luparelli, con Alessandro Maruccia, presidente della Fondazione Dal Mare. L'importanza, la strategicità ai fini occupazionali del settore trasporti e logistica ex nautico. Il nautico, un fantastico argomento. Come Fondazione Dal Mare, da diversi anni ormai tifiamo per l'istituto nautico. La città probabilmente è stata fortemente in ritardo in questo indirizzo che è arrivato da non moltissimi anni. Finalmente c'è. Che significa il nautico per una città di mare? È ovvio che se c'è un porto e se ci sono delle navi, se ci sono tante mestranze che si collegano al mare, ci sono delle bar che servono dei comandanti. Il nautico nel particolare è fantastico perché dobbiamo ricordarci che forma come classi lavorative, forma dei veri e propri dirigenti del mare. Sono istituzioni che hanno una grande responsabilità, pensiamo ai comandanti di petroliere piuttosto che ai direttori di macchina, per arrivare poi addetti al traffico locale. Trasportano vite umane, trasportano merci e quindi hanno sia responsabilità e hanno stipendi congrui alla posizione. Quindi è un gran bel lavoro ed sono lavori che ti permettono di girare per il mondo, di conoscere il mondo, parlare lingue. Insomma è una bellissima carriera per i ragazzi che si vogliono avvicinare. Salvatore Toma, CEO di Toma Italian Brands, insieme al fratello Sergio, ha realizzato questa realtà che opera da 26 anni. Toma l'importanza di una preparazione che dà vita a realizzazioni tessili sartoriali, propedeutica all'accesso nel mondo del lavoro. Sì, oggi naturalmente gli istituti professionali sono fondamentali perché il gap che abbiamo in Italia e quindi anche in Puglia è che c'è troppa lontananza tra il mondo della scuola e il mondo dell'impresa. Il nostro gruppo rappresenta qui su questo territorio, ma ce ne sono tanti altri importanti, che nel mondo del settore del tessile e della moda c'è molte possibilità di occupazionale ma anche di carriere molto importanti. Quindi qui si trasformano tanti griff in Puglia nel versante nostro, appunto quello ionico. Noi siamo da 26 anni che con dei marchi nostri, Avaneco, Angelo Toma e con delle scienze importanti come dell'acqua e Ungaro portiamo avanti quello che è tutto il mondo, soprattutto dell'uomo, ci siamo la specializzazione. Quindi gli istituti professionali di moda devono dare degli indirizzi molto importanti che oggi naturalmente possono dare degli sbocchi che poi si possono perfezionare in futuro con i famosi tess o università. Istituto di istruzione secondaria superiore Archimede Taranto, sede centrale, via Largo Trasimeno 10 Taranto, sede Costa, via Lago di Misurina 2 Calsano, sede Palanto, via Brunelleschi 20 Open Days nei seguenti giorni Domenica 13 dicembre, ore 10, 12 e 30 Giore di 17 dicembre, ore 15, 17 e 30 Domenica 10 gennaio, ore 10, 12 e 30 Giovedì 14 gennaio, ore 15, 17 e 30 Domenica 17 gennaio, ore 10, 12 e 30 Giovedì 21 gennaio, ore 15, 17 e 30 Domenica 24 gennaio, ore 10, 12 e 30 Prenota via mail orientamento-archimede-tarento.edu.it Oppure telefonando al 329 08 34 638 Colora il futuro con la scelta giusta Scegli Archimede